Musica Parliamo della Pixel Nissan La nuova auto neonata in casa Nissan Che poi vedremo il servizio Ci puoi dare qualche pillola? Sì, allora, ovviamente cambiamo completamente genere Si tratta di una city car L'ultima volta parlavamo con Marco Del downsizing nel campo di motori Cioè questi motori sempre più piccoli E sempre più prestazionali Ecco, anche le auto vanno al di là della Forester Restringendosi Basta vedere quello che ha fatto Fiat in America È anche un accordo perché la Fiat può portare Dei pianali e delle auto piccole La 500 dovrebbe appunto arrivare anche in America La Nissan Pixel è una macchina piccola Una city car Che la Nissan ha fatto in comune con la Suzuki Infatti, diciamo, la gemella Perché si tratta di due auto nate Sullo stesso pianale della Nissan Pixel È la Suzuki Alto Grazie a tutti